buongiorno e buonasera e buon ascolto benvenuti ad all'ora di amadeus questo è un podcast scaricatelo ascoltatelo anche quando andate per strada e riempite la vita buonasera signore e signori amadeusiani amadeusiani all'ascolto ricordatevi di mettere like su 123 stream ed iscrivervi ai nostri canali anche youtube all'ora di amadeus salotto della morgi e quelli che eroi abbiamo con noi una blues girl e che blues girl ellie demon eccola qua ciao 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 buonasera buonasera senti nella sigla hai visto un treno sì secondo me il treno è una delle cose più blues che esistono nella nella vita quantomeno il rumore del treno sì diciamo che c'è anche una canzone cui sono legatissima che parla di treni e si chiama freight train di elisabeth cotton e quindi cade a pennello ecco mettiamola così e cosa ti ispirano i treni vabbè allora i treni intanto mi ricordano un sacco di cose perché ho fatto dai miei 20 ai 30 credo di essere stata l'abbonata numero uno alle ferrovie italiane perché erano il mio mezzo principale per spostarmi e il treno un po non so è una sospensione della realtà per tante cose per quanto mi riguarda poi se invece vai naturalmente ad indagare la storia il treno vuol dire tante cose vuol dire speranza vuol dire anche incubo vuol dire paura vuol dire pericolo vuol dire tante cose insomma quindi è un simbolo gigante è un simbolo gigante senti senti e ci sono degli attimi in cui noi diamo fastidio solo a noi stessi è l'esperto e secondo me sono sono veramente dei momenti se non bruce jazz se non jazz comunque poetici o no allora quando diamo fastidio a noi stessi e allora quando da fastidio a me stessa ci trovo poca poesia ci trovo più che altro dopo 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 allora se sono riuscita a superare il momento vediamo più che poesia ci ritrovo pace e la poesia le ritrovo di solito negli altri più che me stessa quindi apri un argomento ostico senti che cos'è blues per te perché io conosco pagan blues tuo che a me piace tanto grazie però appunto sapere cos'è blues per te perché non è un blues normale no allora apri quanto tempo abbiamo una ventina di minuti perché è un argomento complessissimo nel senso che allora io dico sempre che sono finita dentro il calderone del blues mio malgrado perché è una categoria gigante nel quale ovviamente mi ci ritrovo per tante cose e e anche nella quale non mi ci ritrovo per tante cose perché è una categoria che ha una storia dietro una storia anche fatta di di cose che io ho potuto studiare solo sui libri e che non ho vissuto quindi di una cultura diversa della mia quindi di una lingua diversa della mia quindi di eh sofferenze diverse della mia e diciamo che avere scoperto quell'universo lì mi ha dato modo di conoscere dei lati di me stessa che non conoscevo e mi ha dato anche modo di confrontarmi con una cultura completamente diversa della mia e tentare di capire che cosa vuol dire ehm approcciarsi a una cultura diversa e l'unica risposta che mi sono data è quella del dell'essere empatica nel senso che ehm ecco in questo senso il blues è un argomento molto complesso perché si rischia tante volte di cadere quando si parla di blues uno nella banalizzazione due eh nella romanticizzazione di tante cose e di conseguenza nel poco rispetto eh di una storia che invece è una storia molto importante e che richiede anche una voce che di solito ne viene tolta eh perché ehm diciamo che noi bianchi abbiamo secondo me una visione un po' distorta del blues e anche una visione un po' distorta della storia afroamericana l'abbiamo riempita di miti e l'abbiamo riempita di tante figure romantiche che in realtà chiedono da tantissimo tempo di avere una voce politica eh che noi invece non togliamo costantemente a sia alla storia che alle persone attuali quindi è un argomento molto complesso spero spero di non aver fatto no 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 stavo stavo pensando al fatto che nella vita io faccio anche l'insegnante di storia non ok quindi l'italiano perché altro eh e che la storia del blues eh meriterebbe è complessa sì effettivamente è complessa io conosco una parte di storia del blues che è quella che ha a che fare con blues and poetry eh Jack Kerouac Corso Ferlinghetti Bianchi Bianchi anche ok ho capito ma i musicisti erano eri allora no in realtà no nel senso che anche lì no a parte ci sono tanti miti che riguardano il blues su hai studiato adesso c'è tutta una nuova letteratura eh che va a veramente a sovvertire tanto immaginario mitico che noi abbiamo del blues eh si scopre che il blues nasce sicuramente ovviamente della cultura afroamericana ma dentro c'è tanto altro c'è addirittura tanto tanto storia europea dentro perché ci sono tanti italiani che hanno cominciato che hanno fatto il blues all'inizio tantissime band tantissime jazz band all'inizio erano fatte anche da bianchi che assumevano i neri per darsi un certo tono e per anche per una questione razziale quindi c'è veramente tantissimo dentro il problema è che noi continuiamo a tramandare un'immagine del blues legata a quella del nero solitario un po' sfigato che non ha che va in giro da solo e che non ha nessuna voce politica in realtà se tu vai a leggerti tutta la letteratura afroamericana è da tempo che questi artistici dicono attenzione perché voi con le vostre immaginari mitici ci togliete la voce togliete togliete un potere politico a noi neri ecco quindi quello della storia è sempre un argomento molto ostico e credo che tu lo sappia bene lo so bene ecco senti pensi che la tua musica la tua quella di Ellie sia sia in qualche modo libertà di espressione ammesso che la libertà esista ancora ammesso che sia mai esistita allora per quanto mi riguarda la musica per me è un modo per rimanere il dialetto non so se è dialettale questa espressione ma è un modo per rimanere in bolla no in bolla ok ok è un modo per non andare fuori a ammazzare tutti nel senso che per me far musica è una valvola di sfogo ed è un modo sicuramente per esprimermi e anche per abbracciare i lati di me che magari nella vita di tutti i giorni tengo sotto chiave insomma e quindi essenzialmente per me è una cosa molto individuale che mi permette sì di liberare sogni passioni repressioni frustrazioni quindi sì quando è che ti reprimi? a scuola? visto che sei professore ok no allora due o tre anni fa ecco vediamo cioè mi reprimo ma dire reprimo è sbagliato perché comunque è un po' forte come termine diciamo che scendo molto a compromessi con la realtà sociale di tutti i giorni e tante volte vorrei essere un pochino più diretta più schietta più meno diplomatica ecco e invece le circostanze lo richiedono spesso e volentieri facciamola così senti so che hai comunque scritto dei libri sì sì che che cosa c'è in comune fra i tuoi libri e la musica? sono tutti i libri che partono dalla musica e e credo che allora vabbè uno è un saggio che parla di musica quindi è molto quindi gli altri due parlano comunque di musica e credo che la cosa che ha che il libro e la mia musica hanno in comune sia il ritmo la musica mi ha insegnato ad ascoltare molto e quindi quando scrivo cerco di ascoltare molto come suona la frase come come suona l'intero scritto quanto è pedante quanto è veloce quanto è lento quanto è dinamico questa cosa qua ho capito ho capito pensi che in un racconto comunque se tu leggessi un racconto di chiunque domani mattina debba esserci debba esserci del ritmo sì sì assolutamente la scrittura è ritmo d'altra parte c'è quando ti capita di leggere quei testi che risultano un po' pedanti ripetitivi senti subito che manca il ritmo e la stessa cosa mi succede quando magari leggo adesso va un po' di moda fare quelle frasi molto brevi concise quasi sospese ecco sono molto soggetta al ritmo della scrittura e della frase quasi più del contenuto per quanto mi riguarda senti ti sei occupata di tematiche femminili sì parliamone che quanto tempo hai va bene ancora altrettanto allora tematica femminile è una tematica anche questa articolata e complessa io sono partita anche qua dalla musica perché è un po' quello che conosco meglio sono voluta partire dalla storia afroamericana per tentare di capire anche la mia di storia cercando di confrontarmi nella maniera più umile e possibile con quella che è stata la storia delle donne afroamericane degli anni 20 di un secolo fa e scoprire che per quanto le culture cioè quella mia quella loro siano diverse siamo ancora molto indietro a livello di percorsi femminili nel senso che si fa ancora molta fatica allora è un argomento complesso perché ogni volta che si tirano fuori queste cose qua che vedi sempre che vedi sempre gli occhi dell'interlocutore che fanno così della serie ancora che palle no nel tuo caso anche perché gli occhiali gli occhiali maschera ok no 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 perché no perché mi sono mi sono ritrovato in questi anni tante volte di fronte a situazioni difficili difficili quindi sì diciamo che facciamo c'è ancora molto da fare per quanto riguarda non solo i diritti ma la cultura stessa e questa e diciamo che questa cosa qua riguarda in primis le donne perché tante volte sono le donne stesse tramandare dei modelli sbagliati e e la consapevolezza che noi dobbiamo acquisire è proprio quella che se non diciamo noi no a tante cose non lo farà mai nessuno e e quindi si parte il cammino che noi dobbiamo fare parte da qualsiasi cosa ed è in questo senso che è faticoso perché vuol dire una messa in discussione costante del quotidiano da quando mi sveglio la mattina e porto mia figlia a scuola a quando torno a casa e devo fare tutto io insomma le solite cose no e e quindi insomma è un cammino che che le donne devono fare e rendersi conto che loro sono le prime attrici di questo cammino senti tu sei la domanda è questa che strumento suoni vabbè no sai dove voglio arrivare vai vai no no al cintaro ok allora allora la mia storia musicale è un po' schizofrenica nel senso che sono partita ovviamente come partono quasi tutti c'è suonando la chitarrina con gli amici poi sono passata al basso e poi sono passata al contrabbasso e ho studiato per tanti anni sono diplomata in contrabbasso sono diplomata in contrabbasso classico e contemporaneamente al contrabbasso mi è partito il trip per l'India e quindi durante i miei ho speso i miei vent'anni a reclusa in casa a studiare la mattina la musica occidentale e il pomeriggio la musica orientale per poi arrivare ai trent'anni e capire che era meglio ridare e ritornare al punk e quindi i power chord e la cassa in quattro e vabbè cassa dritta cassa dritta esatto vabbè cioè diciamo che lo studio mi è servito appunto per aprirmi ad altre culture e e a capire quanta difficoltà di dialogo ci può essere fra culture diverse a capire anche un po' le mie origini insomma lo studio dà sempre una mano a confrontarsi con cose sempre più profonde questo sì e la cultura indiana mi ha aperto gli occhi su tante cose prima di tutto prima di tutto il mio rapporto stesso con la musica perché diciamo che avere studiato contemporaneamente sia la musica occidentale che quella orientale mi ha dato modo ovviamente di mettere a confronto i due diversi approcci alla musica quello diciamo che in quella occidentale davanti ci sei tu con tutto il tuo ego in quella orientale è il contrario davanti c'è solo la musica e dietro dietro dietrissimo dietrissimo ci sei tu e il fine ultimo è che tu perda il tuo ego quindi sono proprio due approcci estetici completamente diversi io sono profondamente occidentale è inutile nel senso che ci hai provato ad essere orientale ci ho provato no ci ho provato a a disperdere il mio ego e ne è uscito invece fuori un ego gigante un ego gigante sì quindi quindi guarda ma tu però hai detto hai detto due volte durante questi minuti cercare la mia storia e cercare le mie origini quali sono le tue origini beh l'accento si sente sì quello d'accordo e sono queste sono queste qua sono profondamente veneta e negli anni ho dovuto farci pace con questa cosa perché come tanti passi un momento in cui rinneghi le tue origini scappi e poi però ti rendi conto che l'unico modo per capirti è e accettarle e e sì e vengo da 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 questo da dal profondo veneto industriale con tutte le sue contraddizioni che ne ha tante senti la musica in sé è un atto d'amore o di ribellione bella domanda dipende tutti e due nel senso che è un atto d'amore che richiede anche ribellione nei confronti di dei tuoi limiti e nel momento in cui impari ad accettare questi limiti impari anche ad accettare e ad abbracciare tutto l'amore che la musica può darti non entro nel merito della ribellione alla società no no non intendo perché from sostiene che l'atto di ribellione in quanto atto è il primo momento in cui si ha sì 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 in cui c'è la ragione ma forse ha ragione lui però però non è detto che abbia ragione lui no non è detto perché non è detto che cuore e testa siano due cose così disgiunte dipende sempre ma in questo la musica è maestra no dipende sempre dall'ascolto che si ha a proposito di ascolto hai un tuo giardino segreto giardino segreto è un luogo dove meditare dove beh allora vabbè allora luogo fisico ho una stanza in casa dedicata alle mie pippe sì viene chiamata stanza della musica la stanza dove mi rinchiudo di solito in realtà è la stanza delle paranoie e quindi sì è un giardino neanche tanto segreto e poi sì dei segreti ne ho tanti mettiamole così che non svelo no non volevo arrivare a tanto ok senti quali sono i tuoi progetti futuri allora progetto futuro numero uno ottenere il part time a scuola speriamo ok progetto numero due sto facendo un disco in dialetto a proposito di tornare a proprie radici è un bel viaggio perché mi mette in confronto con la mia lingua è sicuramente un viaggio musicale diverso perché mi mette appunto in contatto con suoni diversi con parole diverse e soprattutto anche con una messa in discussione diversa perché per la prima volta canto nella mia lingua e quindi mi sento totalmente immudande dicendo in dialetto ecco ti faccio presente che mi chiamo Valerio di Valerio in Veneto ce ne sono tanti soprattutto in zona in zona Padova e vengo da e vengo da lì come famiglia ecco allora magari capisci anche un pochino di paroline sì qualche parola sì bene bene noi ringraziamo Ellie che è stata grazie a voi gentilissima grazie a te gentilissima gentilissima e e che dire alla prossima occasione alla prossima certo sigla buonasera buongiorno avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus alla prossima occasione ciao